l'abbiamo fatta piangere due volte una volta mentre la truccavo si è sbirciata e mi fa questo va bene ma come ancora devo finire ma già va bene e si sa piangere adesso sta piangendo per carmen niente che dobbiamo fare brava grazie a tutti ovviamente il video backstage non si può pubblicare ci vedremo dopo il matrimonio Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.